Al telegiornale, taglia due miliù di dollari a chi ciaperà Bill Laden e i suoi seguaci, chi è ricercaci in di seguenti stati, Afghanistan, Uzbekistan, Chissado Stan e Dukazzo Stan. Un elefante ha una camela. Certo che te se buffa coi tete sulla schiena. E la camela. Pensa che domande stronze che fa ucchelga o pisello sulla faccia. Scec precoci. Sia, come mai che mi ha detto usare? Mi ha portato la città, che rispondi la Sia. Ma più di me cambia usare. Alfa Scec. Tra il Scec e la sua amicetta, con quella uscita di mezza carogna, che ha usato quando discute sui loro giugatori. Mi ha la macchinina elettrica. E lei. Mi ha la bambola che cammina e che parla. Mi ha l'elicottero che alvula. Mi ha il camper con la barba e con tutti i suoi sticci. Mi ha le costruzioni. E lei. Mi ha la cucina con tutti i elettrodomestici che funziona a corrente. Allora lui tira sui bragi e i miei dandini e che fa? Mi ha il pisellino. E lei, tirando su i miei dandini a sua volta, che dice Mi ha conquistato per dirgli tutti i pisellini che è lei. Mamà, come suonassi da me? Ti ha portato la cicogna che risponde a suonare. Ma alla trombata papà, fa la scettina. Un uomo alvadeppe sbaglio nel gabinetto di donne. E che lei, come la età in detti, comincia a usare. E che dice Ma questo è per i donne? E lui, tranquillamente, tirando il fuo di bragi e che fa? E questo per chi è? Il ginecologo ha una prostituta. Dimmi, durante un ciclo, che ti perdite grosse? Eh sì, la fa la prostituta. Circa sui 3.000 euro. Gli tre suonate che voglio comprare i vibratori. E per far scoraggio, i vadete insieme in due sessi shop. La prima che dice alla commessa Ma io le riesco il vibratore giallo. La seconda Ma che la rosa. E la terza Ma che la rosso sul pilastro. La commessa la guarda in attem e poi che risponde Perché il giallo e che il rosa che mi ha problemi. Ma l'estinturso il pilastro che è la mia vendita. Tra amise Quando feta l'amore parla con il tuo uomo E la amise Dipende Se il mio telefono Barzaletta sui Alpini O il capitano che dice a una nuova recluta Mendo un ferie qua cadde Mi raccomando Ten bagnati i fiori e il prato E arda se te gherite a ciappa Che la topa che chiedete in del giardino. E l'alpino Li staghe tranquillo capitano Che pensate a me? Rientrato il capitano Al manda a ciappa l'alpino E la domanda se c'è di problemi. E l'alpino Ne hai problema capitano E in più Che soglia anche a ciappa che la topa. Ma che bravo Se ne hai fatto dopo Ho fatto un abuso nel giardino E l'ho sottratta io. Durante una festa Io il conosco Una strafiga della Madonna E al comincia a fare Una corte spietata E se io ti indocchia la sta Tu ci dico a mandare i fiori Finché Algeria A strafaga la promessa D'entrano sempre a fare il weekend Stabilita la data I due parti Come ria in albergo Ciappa al volo la ciappa della camera E fa una noce di sesso sfrenato E l'idea dopo Oltre che andava a mangiare Il ristorante più deluso Al che regala un orloio d'or E ci passa insieme Una giornata fantastica Riato al momento di partire Al vedete in della lista Lei la fotografia di Usuen E al che domanda Se per caso Che lei le so morose E lei La che risponde no Allora Sarai tua ammessa Al fa lui No la sapertela che dìsle No ti chiede dimmer Mio le sei tuzzo di lui E che non ti è messo di male Allora Lì la che fa Se proprio tu sei Chi che lei che l'ende la fotografia L'è molto semplice Sire me prima che me fai superà Il sommergibile All'ancia l'Eso S E il verice Da diversi stasciuti terrestri Stabiliti in doca al setroa Vi mandato una nave specializzata Per i soccorsi ai sottomarini Contra il suo mussador Individuato il sommergibile Vasò il primo Per se almeno la nazionalità Dopo un po' Al turno su E gli dice Per me le russo Ma noi faccio io Tredore Troppo da lontano La sua nasce O secondo Individuato il sommergibile Non superficie E gli dice ai colleghi Lei taglia E gli dice I crabiniere Ma come feta Sai il Siete sicuro Che lei taglia E gli dice I crabiniere L'è molto semplice Mego piccadetti In descaf E l'uria Del vi fosse Purtel Mego piccadetti